Due casi di positività al covid ad Andrano, nel Basso Salento, ad annunciarlo il sindaco Salvatore Musarò tramite una nota sulla pagina Facebook istituzionale del Comune. Al contempo però nel paesino salentino il primo caso, risalente a qualche giorno fa, è completamente guarito e non risulta più essere positivo. Tra i due contagiati recenti però ci sarebbe anche un dottore dell'ospedale di Tricase, dove al momento sono in corso le regolari procedure per effettuare i tamponi e i contatti diretti, così come sempre accade in queste circostanze. Dall'inizio della pandemia la provincia di Lecce ha avuto 829 contagi, molti dei quali in questa seconda fase. Adesso si attende solo di capire se al medico dell'ospedale di Tricase potrebbero seguire altri casi collegati o se il rischio focolaio verrà definitivamente scongiurato dai tamponi che verranno eseguiti nelle prossime ore. La situazione comunque non desta particolari preoccupazioni.